Taxi driver? Taxi driver Oggi riunione public relations Perché dobbiamo contattare i locali per quest'estate Perché sennò non ci vedete suonare Quindi ci troviamo tutti da Reffo Tutti no, ma anche Gaia e Tommaso perché devono studiare E ci troviamo là, va bene? Ciao Questi pagamenti a parcheggio A me piace Manco, è un bel paese Però non mettere i parcheggi a pagamento Comunque nel frattempo siamo quasi arrivati da Reffo Ma in realtà Raka potevamo parcheggiare anche qua a sto punto Eh no, qua costa di più 1.70 all'ora Siamo arrivati da Reffo, dov'è? Ecco Noi ti stavamo aspettando fuori Esatto, ti stavamo aspettando fuori Ciao Buongiorno, si vede dal mattino Siamo arrivati E qua intanto vorremmo chiedere ad Apple se ci sponsorizza perché Sì, siamo già anche a questo Questo E quindi niente, adesso copriamo Siamo arrivati a buttare anche il mio schermo Esatto, gratis Ma metto fuoco Non l'abbiamo detto ai nostri follower Che Luca Faraone mi ha ripostato nelle storie Che se hanno dei contatti per farti suonare Ma dai Chiamateci Ah è vero Dove vorreste vederci suonare Scrivetelo qua sotto taggando Oppure scrivete in DM su Instagram Sì Insomma basta che ci date un po' di contatti Raga stiamo andando a mangiare il poke Signore Raffo Grazie Cosa da dirci di questo poke Che stiamo aspettando Ah vero Allora che aspettare è l'arte migliore Fuck Non so Ti sei perso una È bello Assaggio Ti sei perso una cheat di Raffo Cosa l'abbiamo tutti Cos'è Cosa hai detto Raffo Aspettare è l'arte migliore Ma comunque Non so esattamente Perché The Only Limite Is Cos'era The Only Limite Is Sky Ma se Se l'attesa del poke Se spessa il poke Ah vabbè Ha ragione Qui interviene Gaia che fa filosofia Sì sì no vabbè Ma sono cose che cambiano Lui diceva Salmono cotto Do voi E poi lui Dopo che Un gelato Stavolta lo facciamo vedere in video Ultima volta ci siamo dimenticati Perché Ci troviamo e mangiamo Tantissimo Noi in realtà Prova ingrassiamo Allora con questa luce soft Chiediamo il vlog Buonanotte E' il rumore dei tasti Ecco Come i morti Bene Niente raga Non abbiamo fatto il video dopo il poke Ma siamo andati a mangiare Il gelato No l'avete visto L'avete visto quindi Esatto Quindi Cosa fa con gli occhiali Perché c'è il sole Dove si balla Lo ro 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 Con me Affiliate Allora Niente raga E' il no Grazie a tutti.